Ecco, puoi anche, signor Santoro, puoi anche sederti, qui abbiamo a distanza fraterna e sociale. Sì, sì, come no. Possiamo togliere il mascherino? Sì, per parlare, sì. Sì, tanto siamo... Aspettiamo, aspettiamo Tomas. Sì, possiamo togliere. Sì, io direi di... Don Filippo, Don Filippo. Sì, eh. Felicita Sois. Felicita Sois. Ora abbiamo gli strumenti di lavoro, è ancora più tosto. Siamo qui, ne parlerai. Buongiorno a tutti, benvenuti. Allora, siamo qui oggi per presentare la Guida per l'ecologia integrale, un prodotto realizzato dalla Foxiv con l'aiuto del Movimento Globale per il Clima e anche dal Monsignor Santoro, dalla Commissione Episcopale per i Problemi Sociali e il Lavoro, la Giustizia e la Pace della CEI. Allora, i nostri ospiti sono appunto Monsignor Bressan, Luigi Bressan, arcivescovo emerito di Trento, Monsignor Filippo Santoro, vescovo di Taranto, arcivescovo di Taranto e presidente della Commissione Episcopale per i Problemi Sociali e il Lavoro, la Giustizia e la Pace della Commissione Episcopale Italiana. Abbiamo anche Tomas Inzua, che è direttore esecutivo del Movimento Cattolico Globale per il Clima e il presidente della Foxiv, dottor Gianfranco Cattai. Quindi io comincerei velocemente presentando questo documento. vorrei sottolineare anche che il di Castero per lo sviluppo umano integrale partecipa anche, accoglie con apprezzamento questa iniziativa della guida che considera uno strumento prezioso che trae ispirazione dall'ecologia integrale della Laudato Si. Si fa occasione per mettere in pratica le parole di Papa Francesco contenute in questa enciclica. Dunque, la guida sarà comunque un punto di partenza per un cammino di collaborazione tra il di Castero, la Santa Sede e la Foxiv. In passato è già stata elaborata una guida simile. Questa non è la prima, ma però è la prima come un documento proprio strutturato. Rispetto all'edizione precedente, questa di adesso, si concentra unicamente sulle pratiche italiane. Allora, un poco su come è nata, come è sorta, come si è sviluppata questa iniziativa. Da gennaio gli operatori della Foxiv hanno cominciato a girare l'Italia, da nord a sud, in visita ai territori, cercando buone pratiche da presentare. Poi sono stati fermati dal lockdown a marzo, per cui alcune di queste realtà non sono state visitate personalmente, però c'è stato il modo di lavorare da remoto, come abbiamo fatto tanti di noi, con video, interviste, Skype e così via. Sono stati mesi di lavoro difficili, però comunque una sfida che come noi anche loro hanno affrontato insieme. Questa ricerca puntava soprattutto a individuare realtà meno viste, cioè realtà che vengono spesso alla ribalta per situazioni difficili, negative. Purtroppo hanno trovato molte verso il sud dell'Italia, sono realtà con territori più nascosti, più dimenticati, così. Invece hanno trovato situazioni incredibili, sorprendenti, c'è proprio esempi concreti di chiesa in uscita, di coinvolgimento dei giovani, di lavoro, e lì è stato constatato proprio un cambio di paradigma nella realtà. Possiamo citare senza fare alcun torto o alle altre gli esempi di Acerra, Reggio Calabria, per parlare del sud, o anche nel nord San Benedetto del Tronto, dove si è fatta la pesca di plastica, o come il progetto Regeneration Torino, che recupera elettrodomestici destinati alla discarica, o al progetto Welcome, che a Benevento è nato dall'esigenza di sfatare i pregiudizi sull'accoglienza dei migranti. Dunque, ecco qua, questa è una guida che dimostra che la Chiesa Cattolica in Italia sa essere una risorsa che opera con altre risorse, facendo pertanto rete, contribuendo a popolare realtà abbandonate, accogliendo il povero, rigenerandolo nel suo territorio. Diverse delle pratiche qua illustrate sono state realizzate con i finanziamenti dell'otto per mille, il bene fatto con l'otto per mille, quindi un moltiplicatore di bene. Monsignor Luigi Bressan, lo presentiamo prima del suo intervento. È stato nel servizio diplomatico della Santa Sede come segretario di enunziatura, molte volte anche incaricato in Corea del Sud, Costa d'Avorio, Brasile, poi ha lavorato a Ginevra, presso l'ONU, è stato a Strasburgo, rappresentante del Papa in Pakistan, Thailandia, Singapore, Birmania, Laos, Cambogia, Malesia e Brunei. Dopo 28 anni e in giro per quattro continenti, nel 1994 Giovanni Paolo II lo nomina arcivescovo metropolita di Trento, un incarico che ho occupato fino a quattro anni fa. Monsignor Bressan, al centro della riflessione della laudato sì c'è l'unione imprescindibile dei temi ecologici, economici e sociali, coniugati nel paradigma dell'ecologia integrale. Le questioni ambientali non sono mai, sappiamo, slegate da quelle relative ai sistemi economici, alle relazioni tra i popoli e le persone, ma il rapporto tra fede, tradizione cristiana e difesa dell'ambiente purtroppo ancora non è chiaro a molti. No, alcuni mesi fa mi trovavo a un pranzo, vicino a me c'era un austriaco, parlavo in tedesco, non era molto in simpatia con il Papa Francesco e un suo grosso argomento era cosa c'ha a che fare l'ecologia con la salvezza delle anime. A parte che la salvezza di tutta la persona siamo chiamati, ma non era difficile rispondere. Dico, prenda in mano la Bibbia, il secondo capitolo ci dice di custodire, coltivare e custodire il creato. È chiaro che è un obbligo morale, secondo la Sacra Scrittura. E certo, la dottrina poi della finalità universale dei beni è consolidata nella tradizione anche cattolica e cristiana in genere. Forse per decenni la lotta per la legittimità della proprietà privata contro l'ideologia marxista, ha un po' attenuata l'attenzione ad altri principi che in morale appunto contribuiscono. E infatti, se noi osserviamo i manuali di teologia morale, non troviamo tanto parlare di rispetto del creato, di ecologia, non sono termini identici, ma insomma si intende, fino all'anno 2000. Dal 2000 però ricompare questo tema come uno dei obblighi appunto di cristiani. Troviamo testi ancora negli anni 40, sia dei episcopati, sia di Pio XII. Ricordiamo nell'89 la grande riunione ecumenica, ma soprattutto protestante a Basilea, e poi il patriarca di Costantinopoli, Fanari, Istanbul, che ha chiedito anche il patriarca verde. Ma tutte queste dichiarazioni sono state lette anche con un certo sospetto, quasi come il tentativo delle chiese di darsi uno spazio, un'importanza di fronte un po' a una diminuzione del fenomeno religioso e dell'attenzione. anche nella liturgia uno dei prefazzi dice che Dio, cito, chiama l'uomo a cooperare al progetto della creazione. Ma tutto ciò non è entrato nella nostra pastorale, o incomincia solo ora. Ci sono bene una quindicina di riferimenti al tema ecologico nei discorsi di Giovanni Paolo II. Ecco che è arrivata questa scossa forte dell'encicli che l'ha dato sì. E la riconoscenza è in tutto il mondo, nella mia esperienza anche internazionale, ho ancora dei contatti, e devo dire che tutti apprezzano questo documento e questa iniziativa del nostro amato, estimato Papa Francesco. Ed egli ricorda che non si può amare il prossimo, e questo è un certo mandato specifico, identitario di noi cristiani, è deteriorare o permettere che venga peggiorato, danneggiato il suo ambiente di vita. L'ecologia dunque non è una pratica, un impegno a sé stante, ma parte di un approccio globale per il bene comune, ed è tanto più rilevante dunque per le persone più fragili. È necessità assoluta, oggettiva, chi di noi non vede riscaldamento. Non ditele a uno che vive in mezzo alle montagne, che da bambino quindi si andava già sui monti e vede ora sparite quelle che si chiamavano i nevai perenni, gli acciai molto ridotti, eccetera. Ma è anche appunto un impegno etico. Da Foxiv, con le sue 86 associazioni di volontariato internazionale, ha pensato dunque di produrre questa guida, rivolgendosi in modo particolare alle parrocchie, alle comunità cristiane, anche alle comunità religiose, sono cristiane anche loro, ben inteso, ma anche a ogni forma aggregativa. Lo scopo della guida è anzitutto creare cultura, creare, renderci coscienti tutti, ognuno e ognuna, della sua corresponsabilità, bambini fino agli anziani. L'impegno dunque è di provocare dal basso un'ecologia integrale e far sì che territori e comunità insieme, con le autorità e le istituzioni civili, si facciano protagoniste di un nuovo cammino di cura della casa comune. Si pensi alla convivenza e a un progresso non illusorio, perché non è detto per il fatto che si accumula più bene, saremo più felici e saremo un vero progresso. Si può arrivare anche al baratro e siamo l'esperienza Covid, ce lo dice. Dunque ci sono riflessioni affidate a del penne di spessore, cioè pastorale, sulle fonti energetiche, si basa certo sulla dottrina sociale della Chiesa, sulla realtà di Cristo Salvatore che desidera fare nuove tutte le cose. Sul concetto anche di San Paolo, circa il creato, la natura, che nelle doglie del parto, e da lì si parte una riflessione, inserendosi poi certo nella ricchezza anche dei elementi che la scienza ci porta. Ricordiamo un presidente di un importante stato che recentemente diceva che comunque il freddo arriverà e uno scientifico le ha detto, signor presidente, purtroppo la scienza non parla come lei. Ma chiediamoci, è possibile poi, in realtà, per le nostre comunità, ridotte in numero, in partecipazione, crisi economiche, relazionali, famiglie con difficoltà? È possibile? Ecco, questa guida risponde che sì. Vediamo. Al sud, al nord, ce ne sono varie esperienze, buone pratiche che vengono testimoniate, ma con lo scopo appunto di dare un incoraggiamento. Sono 19 esperienze concrete nel mondo cattolico e una del mondo anche valdese. E poi, 13 forme di rette. È importante, perché le reti permettono di sostenersi, di scambiarsi riflessioni, di scambiarsi anche esperienze. Io direi che è un vasto giardino che fiorisce e produce frutti, nel quale immergesi anche noi per saper donare ad attori e fruitori altrettante e ancora maggiore bellezza sul proprio terreno. La guida è stata preparata dunque dalla Foxi, in collaborazione piena con l'ufficio della CEI, ringraziamo qui Don Bruno Bignami, e con la commissione presieduta da Monsignor Santoro, che poi ci parlerà, d'intesa col di Castero della Santa Sede per lo Sviluppo Integrale. Le coppie sono già state inviate a ogni diocesi, il testo è fruibile, gratuitamente, anche sul sito Foxi. E devo dire che le prime reazioni sono positive e incoraggianti. Essa si prospetta poi nella visione della prossima settimana sociale dei cattolici d'Italia, e si apre anche a un futuro che va anche al di là, certamente. E ringraziamo molto la Cerenza Monsignor Santoro di tutto il lavoro che sta portando avanti per preparare anche questa grande e importante riunione a settimana sociale e che ha preso il tempo, scappando un po' dal Consiglio permanente episcopale, che sta concludendo i suoi lavori per essere qui con noi. Grazie. Grazie Monsignor Bressan, grazie anche che ci hai introdotto già immediatamente nel Monsignor Santoro, che conosciamo già da tanti anni, il Vescovo di Taranto, ma è stato in Brasile moltissimi anni, dall'84 al 2011, prima è stato Vescovo Auxiliare a Petropolis, poi è andato come diocesano, prima Auxiliare a Rio, poi diocesano a Petropolis, ha partecipato a conferenze di Apparecida, anche a Santo Domingo, se non sbaglio, e dunque ricordiamo anche Monsignor Santoro, Presidente del Comitato Scientifico e Organizzatore delle Settimane Sociali, come ha detto Monsignor Bressan, ha partecipato ad alcuni sinodi qui in Vaticano, ricordiamo l'ultimo dei quali, quello sull'Amazzonia l'anno scorso. Lei conduce la Chiesa di Taranto da dieci anni, conosce benissimo questa relazione tra ambiente, lavoro e difesa della salute, ma oltre a questo Monsignor Santoro, i nostri ritmi di lavoro, così basati su questa competizione, sulla produttività, anche quello ci inquina? Bene, buongiorno, un saluto a Monsignor Bressan, a Cristiani, a tutti voi qui presenti, ci sono tanti fattori che ci inquinano, io vorrei partire da una osservazione, nella mia situazione di Taranto vedo gli effetti macro dell'inquinamento, cioè una grande fabbrica di acciaio, la più grande di Europa, con i suoi effetti che nel corso degli anni hanno prodotto morte e malattie nella città e nel territorio, certo hanno dato lavoro, però hanno prodotto questo che Papa Francesco chiama debito ecologico, un debito ecologico legato proprio alla produzione dell'acciaio, quando si aveva come obiettivo solo la produzione, non avendo un rapporto positivo con la città, con il territorio, con il resto, e perciò l'Italia è in debito nei confronti di Taranto, quindi quando si dice che ora sono previsti i vari investimenti per il mezzogiorno, particolarmente per un nuovo assetto, anche per una transizione ecologica dell'exilva attualmente, Arcelor Mittal, si fa semplicemente un'opera dovuta, quindi lì ci troviamo di fronte, ecco questo è il testo, quello che ora presentiamo, questo qui è l'instrumentum laboris per la preparazione della prossima settimana sociale dei cattolici italiani, la prossima settimana sociale dei cattolici italiani si terrà a Taranto, nel 2021 era prevista per il mese di febbraio, si terrà nel mese di ottobre, se tutto procede come dovrebbe procedere, se questa pandemia si allenta. Ma dopo questo documento, noi abbiamo proprio ieri approvato nel Consiglio Permanente dei Vescovi un altro documento che presenteremo in una conferenza stampa, in modo più ampio, che si chiama Instrumentum Laboris, che affronta vari temi, molti dei quali sono affrontati e approfonditi già in questa guida, e quindi la tematica ambientale viene e si impone, si impone a livello macro, si impone positivamente come risposte a livello di documentazioni che è di un fatto semplice, che il cambiamento è possibile, che la novità è possibile, che è possibile coniugare sviluppo economico e sociale con la cura della casa comune, con la cura dell'ambiente. Quello che è possibile a livello più limitato è anche possibile a livello macro. Ecco, il titolo della prossima settimana sociale è il pianeta che speriamo, il pianeta che speriamo, ambiente, lavoro, futuro, hashtag tutto è connesso, e tocca in pieno la questione, la questione ambientale, ma non tutto il tema della laudatosi, ma particolarmente l'aspetto, il rapporto tra l'ambiente e il lavoro, l'ambiente, la difesa dell'ambiente, la difesa della casa comune. Quindi è con una prospettiva spalancata verso il futuro, avendo un'attenzione particolare ai giovani, avendo come interlocutori vari mondi, tra i quali il mondo giovanile. Su questo testo volevo dire una cosa semplice, sia questo testo come l'altro, l'instrumentum laboris che abbiamo fatto, e che propone proprio grandi questioni, molte sono simili alla guida. Se noi scorgiamo i titoli del prossimo instrumentum laboris, che parte dalla pandemia, i volti feriti e il mondo dopo il coronavirus, un punto di partenza insuperabile, che ha determinato tutta una prospettiva diversa. Poi ancora la laudatosi e la sapienza della creazione, profezia di un nuovo cielo e di una nuova terra. Poi ancora il tema dell'ecologia integrale, nodi da sciogliere, i nodi da sciogliere, visioni di futuro per una transizione ecologica, partire dalle buone pratiche, è proprio un capitolo, e quindi questa guida, in pieno e in sintonia col cammino che la Chiesa italiana sta facendo, e che la preparazione alla settimana sociale sta portando avanti. E poi camminare insieme, verso Taranto e oltre, per un'ecologia integrale. Dico semplicemente due aspetti che ci muovono nella presentazione, che valgono sia per questa guida, ma anche per l'instrumentum laboris. Primo, mettere in evidenza l'originalità della posizione che nasce dalla laudatosi e quindi che sarà messa in evidenza nella settimana sociale dei cattolici italiani di Taranto nel 2021. Originalità perché? Perché tanti, tutti adesso parlano di ecologia, di ambiente, di transizione, eccetera, eccetera. Nella laudatosi c'è una originalità, c'è uno sguardo originale su questa prospettiva. Uno sguardo originale che mette in evidenza una possibilità di conciliare temi opposti, il tema dell'ambiente, il tema del lavoro, il tema del locale, il tema dell'universale, tanti aspetti. Questa conciliazione è possibile solo a partire da uno sguardo originale, lo sguardo contemplativo di San Francesco d'Assisi, lo sguardo contemplativo che rende possibile conciliare cose non comuni. E l'origine di questo sguardo è proprio il vedere la creazione come un dono, non come una realtà da depredare, da sfruttare, ma come un dono da accogliere e da ringraziare. perciò il primo aspetto è l'insistenza sulla originalità della prospettiva che è questa del sguardo contemplativo ma anche una ripresa dell'annuncio cherigmatico nel senso dell'annuncio del Vangelo, della buona novella che è per tutti di nuovi cegli e di nuova terra. Questa è l'originalità. Secondo aspetto il dialogo con tutti, il dialogo con tutti coloro che si interessano della questione ambientale, il dialogo con tutti coloro sia del mondo della cultura, della scienza, della ricerca scientifica, ma anche della politica, ma anche dell'impresa, ma anche delle amministrazioni che hanno a cuore la soluzione di questa drammatica contingenza, di questa situazione drammatica. La situazione drammatica che si è vista, io personalmente sono particolarmente legato, l'ho vista espressa nel sinodo dell'Amazzonia. Nel sinodo dell'Amazzonia era evidente che la distruzione dell'Amazzonia non è un problema solo per loro, ma è un problema per tutti quanti. Ma io dicevo a Taranto abbiamo una situazione in piccolo rispetto a quello, ma è un piccolo grande anche questo, che è per cui la produzione non può andare avanti ignorando la vita, ignorando l'ambiente, ignorando la dignità delle persone, semplicemente assoggettandosi al puro criterio della massimizzazione del profitto. E quindi una prospettiva in cui si dialoga con tutti per la cura della casa comune. E come è successo nel sinodo dell'Amazzonia, in cui tanti rilievi proprio sulla questione sociale, sulla questione culturale, sulla questione ambientale, sono stati utili proprio per la presenza della Chiesa, così noi non possiamo ignorare il cuore della proposta della laudatosi che sarà il cuore della proposta della settimana sociale. La fondo cosa significa realmente l'ecologia integrale. Come non è possibile parlare di un problema ignorandolo dall'altro, non si può parlare di ecologia ambientale senza tenere presente la situazione sociale, né si può parlare dei problemi sociali senza e qui la guida li presenta tutti questi temi, questi argomenti. Sul tema specifico mi soffermo, siccome non è la presentazione della settimana sociale, la faremo, quindi voglio dire solo una cosa, riferendomi a una frase che ha detto Don Tonino Bello, Don Tonino Bello il nostro compito è quello di annunciare la speranza, ma anche di organizzarla, ma anche di far sì che tante forze che collaborano possano lavorare insieme per un futuro sostenibile, perché la sostenibilità è la questione della vita per noi e per le future generazioni, quindi l'organizzare la speranza nel senso di offrire un presente e un futuro migliore per le nuove generazioni è un compito urgentissimo. Lo vedo dove particolarmente si intrecciano nuovi elementi, l'ecologia, i problemi sociali, ma anche la politica, abbiamo visto queste elezioni che ci sono state, io che vivo a Taranto dico ma speriamo che questa sia la volta buona per cui alla questione dell'ILVA ma anche alla questione della Xilella ma anche alla questione della disoccupazione terribile dei giovani ma anche alla illegalità sia data una risposta e questo deve accadere tanto da parte delle autorità locali, delle istituzioni locali ma soprattutto con una regia centrale decisa in cui ne va di mezzo il bene delle persone e poi il mio invito come pastore è oltre alle istituzioni innanzitutto a tutti quanti ciascuno di noi deve fare la sua opera nelle piccole cose raccolta differenziata risparmio dell'acqua pulizia attenzione proprio per amore alla casa comune per amore alla bellezza grazie 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 Monsignor Santoro la ringrazio anche ricordiamo che anche la guida porta un bellissimo esempio di pratica comune di bella pratica certo a Taranto inviterei Tomas Insua lo chiamiamo o passiamo al dottor Gattai eccolo Tomas grazie allora noi ci spostiamo ci spiace come no vieni 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 Tomas ecco Tomas è il fondatore e direttore del movimento cattolico globale per il clima Tomas è argentino benvenuto Tomas durante molto tempo il movimento cattolico globale ha organizzato eventi durante il lockdown soprattutto tantissimi eventi anche adesso durante la settimana laudato sì il tempo del creato eventi online insieme al di Castero per lo sviluppo umano integrale e anche al di Castero per le comunicazioni quindi Tomas è un nostro amico in questo ambito con circa 1500 animatori laudato sì in Italia e più di 18.000 nel mondo il movimento lavora affinché questa guida si traduca in comportamenti di pratica di buona pratica soprattutto sensibilizzando i giovani è vero Tomas? sì certo quindi sì è una grande gioia partecipare in questo evento e per annunciare questa bella guida e specialmente anche in questo tempo speciale che è il tempo del creato che è questo tempo che ha cominciato il primo settembre la giornata mondiale di preghiera e finisce il 4 ottobre la festa di San Francesco quindi una grande gioia in questo contesto così speciale anche parte dell'anno laudato sì che ha proclamato Papa Francesco e sì raccontare un po' su questa guida e io direi prima di tutto ringraziare alla Foxiva a Gianfranco Gianni e Andrea che non è qua la squadra per preparare questa bella guida per aiutarci a mettere in pratica la laudato sì che la laudato sì è stato ovviamente un bellissimo documento una bella riflessione ma credo che è chiaro che il Papa Francesco non vuole che sia una bella riflessione ma anche un appello all'azione a fare qualcosa e in questo contesto una guida come questa è un aiuto molto concreto diciamo per comunità e parrocchie per mettere in pratica questo messaggio che ancora sappiamo che sono cinque anni della laudato sì l'attività i frutti della laudato sì in questi cinque anni sono meravigliosi ma non sono sufficienti e chiaramente l'urgenza della crisi della nostra casa comune l'urgenza della crisi planetaria è così grande che i frutti non sono ancora sufficienti dobbiamo fare tantissimo di più e questo per aiutare la Chiesa ovviamente ha bisogno di aiuto e di strumenti come questa guida per mettere in pratica quel messaggio quindi anche una una gioia nel 2017 noi dal Movimento Cattolico Mondiale per il Clima a livello globale abbiamo fatto una prima versione di una guida in inglese e abbiamo lavorato con la Foxiv per fare una traduzione all'italiano ma una versione aggiornata con casi propriamente italiani penso che è una risorsa molto utile per aiutare la Chiesa italiana diciamo quindi siamo molto contenti che abbiamo nuovi buone pratiche la versione prima era un po' vecchia adesso quindi molto utile avere questa risorsa e anche dire che siamo molto contenti che tra tante buone pratiche che sono menzionate qua che ci sono alcune storie su e iniziative dal Movimento per esempio questo che ha menzionato appena adesso Cristian sul programma di animatori Laudato Si che come ha detto Cristian sono infatti più di 1800 in Italia solamente quindi tantissimi che continuano a crescere il movimento sono leader a livello parrocchiale ci sono alcuni qua infatti in questo evento come Enrico e Maria Grazia che fanno questo lavoro di animare la sua comunità e mettersi in rete che abbiamo bisogno di questi animatori Laudato Si a livello locale che ci sono tantissimi in diverse realtà in parrocchie in congregazioni religiose comunità di diverso tipo scuole eccetera c'è bisogno di questi animatori tutti io sono un animatore anche penso e abbiamo bisogno di metterci in rete di lavorare insieme imparare gli uni degli altri quindi quella è una storia che è raccontata nella guida e speriamo che la risorsa questa guida sia per tutti questi animatori in Italia di utilizzarlo come uno strumento per attivare le sue comunità e anche che cominciano i circoli abbiamo dei circoli Laudato Si che sono quasi 100 circoli gruppi locali Laudato Si in diverse comunità animate di questi animatori che cominciano a nascere in tutta Italia in tutto il mondo anche quindi quello è raccontato un po' nella guida e anche menzionare per ultimo che un'altra iniziativa bella raccontata dalla guida questa campagna del desinvestimento dei combustibili fossili che continua a crescere tantissimo in tutto il mondo tantissime realtà cattoliche che cominciano a utilizzare questi criteri etici nei suoi investimenti che non è solamente combustibili fossili a livello generale ma particolarmente sulla questione climatica il tema dei combustibili fossili che è un'iniziativa ecumenica interreligiosa ci sono tantissime chiese in tutto il mondo che cominciano a farlo e credo che parla dell'urgenza perché se uno capisce la crisi climatica l'80% della crisi è la combustione dei combustibili fossili quindi c'è un bisogno urgente di una transizione energetica giusta e deve essere sempre giusta come ha detto Monsignor nell'intervento prima sulla questione sociale deve essere diciamo inserita alla radice di tutto il discorso ecologico però buono in questo senso io direi sono contento molto contento di questa nuova guida anche come ha detto Monsignor Santoro di organizzare la speranza mi è piaciuto tantissimo quella espressione che abbiamo bisogno nella chiesa non solamente da annunciare ma da organizzare la speranza in questi tempi di grave crisi tanti diversi livelli per la nostra famiglia umana la chiesa ha un ruolo fondamentale per essere faro di speranza e organizzare questa speranza che c'è tante iniziative che sono testimoni di speranza ma c'è bisogno di organizzarle e quindi questa guida è una bella iniziativa in questo senso di organizzare un po' tutta questa speranza quindi grazie mille mi piace molto che hai parlato delle energie rinnovabili perché in questa guida ci sono delle esperienze pratiche in questo senso in cui la chiesa qualche volta si è trovata anche in posizione un po' scomoda in una posizione un po' scomoda perché a fianco ai più deboli a fianco a quelli che chiedono alla politica di fare qualcosa in più che è la sua parte insomma la parte della politica il bene comune quindi ti ringrazio nel tuo intervento passerei la parola al presidente allora della Fox il dottor Gattai il dottor Gattai è nato in Francia ma ha sempre vissuto in Italia si può dire no? a Torino intanto rimassiamo il microfono allora ha sempre vissuto a Torino ha studiato architettura è stato docente universitario proprio di materie collegate alla tecnologia per i paesi in via di sviluppo si è sempre occupato di volontariato seguendo iniziative anche se è occupato di Burkina Faso è presidente Foxiv da 11 anni lei adesso ci anticipa allora un pochino i nuovi impegni iniziative nel campo di applicazione pratica di questa guida per favore grazie diciamo a Monsignor Bressan a Monsignor Santoro a Thomas che siamo molto contenti di essere qui insieme oggi io vorrei concentrare su tre aspetti il mio intervento il primo il primo è vero abbiamo raccolto documentato 20 casi italiani di eccellenza ma sappiamo che ce ne sono molti altri e per questo pensiamo di dare vita ad un sito un blog proprio per raccogliere per raccontarci come c'è una cittadinanza attiva c'è una comunità di cattolici e non solo impegnati per dare concretezza a questa enciclica di una lungimiranza di Papa Francesco non indifferente però obiettivamente uno degli scopi che noi abbiamo è quello di penetrare i territori ma appunto le associazioni della Foxiv sopra sono 86 ma sui territori la cosa importante che noi vediamo presenza della pastorale sociale del lavoro presenza della Foxiv dell'azione cattolica degli scout eccetera a metterci insieme fare sistema utilizzando pratiche e valorizzando pratiche sui nostri territori cioè il discorso non è soltanto singolarmente come persone o come singole associazioni ma avere la voglia dare il gusto di fare sistema di più di fare dialogo tra di noi sui territori per impattare di più per dimostrare che è condivisa è trasversale nel nostro mondo questa scelta dell'ecologia integrale per fare più comunione questo è uno degli obiettivi per i quali noi vogliamo lavorare chiedo scusa la seconda cosa è chiaro che noi siamo una rete nazionale e insieme alle altre reti nazionali dobbiamo fare impatto dobbiamo fare sinergia cito per esempio la rete Retinopera che mette insieme 23 movimenti nazionali che il 14 di ottobre ha deciso di concentrarsi su questo ma non soltanto per una riflessione esterna anche per riflessioni esterne io ho sempre in mente a proposito di questa enciclica quanto ci confessavo in un incontro pubblico Gianfranco Bologna presidente del comitato scientifico di WWF che si definisce laico diceva il papa ci ha fatto un regalo che non finiva più a noi ambientalisti perché ha dato il senso dell'uomo a voi cattolici non eravate impegnati nel discorso ambientale quindi del creato dell'ecologia eccetera e quindi è un'opportunità questa non indifferente perché riconosce il contributo delle parti la sussiediarietà tra le parti terzo e ultimo elemento che volevo portare è questa iniziativa a proposito dell'ecologia integrale non è questa iniziativa della guida una iniziativa estemporanea rispetto agli impegni della Foxy ma è in un continuum vi porto alcuni esempi il noi abbiamo fatto il pellegrinaggio da Roma a Parigi a suo tempo e da Roma a Cattovice in Polonia pellegrinaggio che significava camminare a piedi no incontrando delle persone camminando con le persone proprio su questi temi oppure abbiamo fatto delle pubblicazioni a proposito dell'accaparramento delle terre nei paesi impoveriti paesi nei quali chi ha fondi i bisogni di terra va a espellere i contadini dai propri territori e poi ci stupiamo se questi nuovi schiavi perché è gente che non riesce a sopravvivere e che finisce nelle grandi città ci stupiamo se poi migra allora il problema a proposito dell'accaparramento delle terre noi abbiamo curato negli ultimi anni negli ultimi tre annualità proprio una pubblicazione documentando no questo questo che parte dai nostri paesi anche europei anche italiani ancora a proposito prima Monsignore Santoro citava l'Amazzonia noi abbiamo curato proprio sul discorso in particolare sul discorso ambiente abbiamo curato con il dipartimento della comunicazione del Vaticano la formazione l'accompagnamento di giornalisti di una ventina di giornalisti perché andassero a vedere delle esperienze di situazioni da denunciare ma anche di risposte concrete casi positivi risposte che si possono dare quindi ecco e termino con questo a me pare che lo sforzo che la federazione fa con i suoi organismi con il suo sistema degli 80 e più organismi è proprio quello di fare cultura attraverso delle azioni attraverso degli esempi in quella logica che Monsignor Bressan diceva proprio all'inizio in quella logica che noi vogliamo di contaminazione perché questo è una delle cose fondamentali combattere la disinformazione programmata probabilmente può anche passare attraverso una contaminazione positiva grazie dobbiamo imparare a comunicare anche meglio allora apriremo un po' di spazio alle domande se qualcuno ha qualche quesito da porre ai nostri ospiti abbiamo un po' di tempo abbiamo un microfono pronto siete stati molto chiari si può presentare per favore a chi vuole fare la domanda buongiorno un saluto dal di Castero per il sviluppo umano integrale rallegramenti per la bellissima guida una brevissima osservazione sull'importanza del criterio dell'ecologia umana ecco quanto è difficile lavorare anche su questo e come questa guida tenta di tradurlo in modo operativo oltre a rinnovare i complimenti per gli organizzatori della guida e i relatori per le loro bellissime presentazioni una delle pagine ha un accenno alla mafia progetti costruiti su beni tolti alla mafia la domanda allora sarebbe quale incidenza politica per la guida se è previsto portarla non so in Parlamento ai sindaci alle istituzioni italiane e quali futuro può esserci nella dimensione istituzionale per la guida grazie ancora davvero complimenti grazie vuole rispondere a lei presidente se ci fosse grazie della domanda se ci fosse qui Andrea Stocchiero che è il vero estensore della guida direbbe che noi abbiamo condiviso questa guida con il forum per lo sviluppo sostenibile del ministero dell'ambiente italiano e questa è una cosa fondamentale perché dico questo potrei citarne tante altre avete visto che l'ASVIS è parte integrante è parte dell'operazione è fondamentale quanto lei chiedeva perché se non partiamo dalle nostre esperienze per cambiare delle scelte culturali e cioè delle opzioni politiche beh saremmo i bravi che fanno le buone azioni quindi da questo siamo partiti già da con questo presupposto ed è sicuramente una delle iniziative che intendiamo portare avanti a livello nazionale ai livelli regionali e ai livelli comunali non pretendendo e qui mi riallaccio anche all'appuntamento che avremo il 14 di ottobre guardo Monsignor Santoro e lo ringrazio fin da adesso perché ha dato la sua disponibilità di essere a rete in opera ma come rete in opera non affronteremo unicamente la guida ma affronteremo appunto il contenuto anche delle settimane sociali noi siamo contenti di poter contribuire essere un pezzo di chiesa in cammino da questo punto di vista ma abbiamo invitato anche altre due presenze la prima è Giovannini che con lo sviluppo sostenibile l'ASVIS ha maturato alcune idee che ci verrà rappresentare e l'altro è Realacci che ha un manifesto su questo aspetto e quindi sarà in modo anche di condividere degli sforzi comuni per fare più scelte culturali più coerenze politiche da questo punto di vista quindi termino proprio per rafforzare il concetto che non possiamo limitarci alle singole azioni ma dobbiamo avere un approccio culturale e di coerenza politica grazie se vuole aggiungere Monsignor Bressan se si avvicina al microfono meglio per le trasmissioni grazie ringraziare di Castero per lo sviluppo integrale ecco purtroppo oggi hanno una riunione corrispondente di rappresentanti europei proprio su questo tema e quindi ringraziamo però essere qui presenti Stocchiero Andrea l'uomo che è dietro con anche dei signori ha lavorato per questo anche lui ha una riunione corrispondente con i rappresentanti europei purtroppo d'altra parte la giornata di oggi era motivata questo 23 soprattutto per poter avere un signor Santoro che sappiamo molto occupato e insomma però entrambi spiritualmente sono molto partecipi il Dicastero poi ci ha invitato a una riunione ad hoc e prossima ringraziamo la presenza del dottor Vinci Guerra se posso per giustificare l'assenza di Stocchiero oggi Stocchiero è impegnato come Foxiv è impegnato in un'iniziativa che si chiama giovani sull'ecologia integrale a livello europeo sabato è impegnato su evento su giustizia sociale e climatica terzo impegno contemporaneo della Foxiv la tavolata che speriamo in bene riusciamo a tenere in via della conciliazione sabato mattina chiedo scusa ci sono altre domande prego io sono Ilaria De Bonis Popoli e Missione volevo chiedere quanto è importante anche riferendomi all'intervento di Monsignor Santoro quanto è importante a questo punto toccare anche il tasto dell'economia perché abbiamo capito che sono strettamente correlati e che per esempio parlare di riconversione industriale avrebbe un grande significato però lì bisognerebbe toccare molto di più il tasto politico capisco che è più difficile però ecco questa è una strada signor Santoro ho chiamato in causa grazie per la domanda l'economia è direttamente chiamata in causa in tutto ciò che abbiamo detto nella guida è detto ma nella preparazione della prossima settimana sociale è detto chiaro il nostro obiettivo è contribuire al cambiamento del modello di sviluppo questo è il vero problema un modello di sviluppo che metta al centro il bene della persona il bene della famiglia e della società e attualmente la tesi che sosteniamo e che molte buone pratiche documentano particolarmente se si è fatto riferimento alla domanda sulla mafia eccetera eccetera che un'economia che vive la legalità un'economia che vive la legalità è anche più produttiva dal punto di vista strettamente economico ma così è un'economia ambientalmente sostenibile è più redditizia anche a livello economico ma c'è tutto un sistema adesso in cui sono sono favorite quelle quelle aziende e quelle imprese economiche ecologicamente sostenibili ma anche da parte nostra da parte dei 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 cittadini l'idea sostenuta da da alcuni componenti del comitato come Becchetti Magatti e altri è quella di votare col portafoglio cioè di comprare quegli elementi quei prodotti che sono ecologicamente sostenibili e socialmente sostenibili quindi sono tante tante prospettive che vanno nella direzione di un nuovo modello di sviluppo di cui la Labda Tosi parla e che è a noi il compito di attuare passo dopo passo questa transizione che è una transizione culturale innanzitutto ma poi è sociale ed è ecologica grazie bene le buone pratiche rendono anche più bello il territorio vediamo bene l'Italia ma è così prego un'altra domanda salve Andrea Cosentino del centro studi di Renova Perform a parte è bellissimo organizzare la speranza ma quali saranno anche i prossimi step per organizzare anche le competenze perché la finanza sostenibile sta crescendo in maniera esponenziale e sta battendo quei giganti di finanza che in poche parole erano più legato ai fossili io penso che forse serva ancora più formazione e competenze in tutti i network diciamo cattolici quali saranno per voi i prossimi passi posso dico qualcosa su questo innanzitutto sotto questo aspetto noi sosteniamo il momento culturale cioè di cambiamento culturale che anche la finanza la finanza legata a realtà sostenibili è in crescita è in grande crescita l'ISG insomma sono sono realmente tutti elementi che rendono possibile uno sviluppo ecosostenibile della finanza su questo e su anche altri problemi il dialogo è aperto anche con la scienza nella prossima settimana sociale uno dei nostri interlocutori è il mondo della cultura il mondo di chi conosce bene la questione ambientale e la indaga scientificamente perciò avremo dialoghi con varie università con la cattolica di Milano dove c'è un centro per la sostenibilità ma la sapienza eccetera eccetera Roma 3 cioè un dialogo attento in modo da collegare insieme sapienza e conoscenza cioè se non c'è una direzione in cui andiamo gli studi vengono utilizzati per un puro tecnicismo che va a profitto dell'accumulazione del capitale e della massimizzazione del profitto però se c'è una visione una vision come quella della laudatosi il dialogo con le scienze sociali ed economiche può essere pienamente produttivo quindi un'insistenza su tutti questi elementi cioè il cammino attuale è di un di un dialogo aperto con vari interlocutori a partire da un da una visione che mette la difesa della casa comune e della persona insieme grazie Tomas volevi aggiungere qualcosa sì su i due punti menzionati quello della finanza è stato già menzionato sul secondo punto della formazione sono pienamente d'accordo che c'è bisogno di tantissima più formazione su questo tema nella chiesa c'è un teologo irlandese Sean McDonald si chiama dice che che la chiesa con la laudato sì prima della laudato sì era il livello asilo nido di conoscenza su questo tema e addosso con questa enciclica adesso la chiesa la chiesa è a livello dottorato e quindi c'è bisogno di accompagnare a tutti i membri della chiesa a avanzare in questo percorso e c'è bisogno di tantissima formazione e in quanto ai steps io menzionerei due cose prima questo che è menzionato la rete di animatori laudato sì è un percorso di formazione precisamente aperto a tutti nella chiesa a diverse realtà ecclesiali a offrire questo percorso di formazione per imparare di più perché il documento dell'enciclica è così profondo che c'è bisogno di tanta riflessione per capirlo io letto e rileto l'enciclica tantissime volte e ancora continuo a scoprire nuove cose e in questo senso anche menzionare che un esempio bello qua a Roma che abbiamo un partenariato con le università pontificie qua a Roma c'è questo joint diploma in ecologia integrale tutte le università pontificie di Roma Tevaldo Vinciguarra uno dei professori è una bella iniziativa giustamente in questo discorso è una buona pratica che sto pensando credo che non c'è nella guida è una bella pratica di formazione però c'è tanto di più chiarissimo però ci sono alcune iniziative già per esempio questo percorso di formazione di animatori Laudato Si Te la faccio io una domanda come si diventa formatore animatore Laudato Si Lo facciamo due volte all'anno è una formazione online che giusto in questi tempi di coronavirus ha cresciuto tantissimo in questo tempo quindi come si fa visitare il sito web del Movimento Cattolico per il Clima e c'è il modulo di iscrizione ci sono due corsi all'anno sono un paio di moduli e una formazione online e lo velo che non è semplicemente formazione ma è anche per diventare un animatore Laudato Si uno deve fare un progetto finale per animare la comunità un evento per esempio un evento per il tempo del creato un progetto qualcuno di questi progetti nella guida di sostenibilità o di educazione o di spiritualità o qualche iniziativa concreta per animare una comunità concreta quindi sì prima la teoria poi la pratica esattamente teoria e pratica abbiamo bisogno delle due posso aggiungere ma in tutte le diocesi esiste una struttura un'iniziativa che si chiama ufficio o commissione diocesana per i problemi sociali lavoro la giustizia e la pace cioè portare attraverso il lavoro anche di questi uffici e commissioni a che il tema sociale unito a quello ambientale l'interesse per la società l'interesse per l'ambiente diventino parte normale della catechesi della preparazione dei sacramenti della sacramentaria della celebrazione liturgica come si può fare una celebrazione liturgica senza la bellezza dio del signore del cielo dell'universo ti rendiamo grazie cioè questo questo sguardo cosmico che poi comporta un aspetto pratico morale che è quello del prendersi cura anche il monsignor Bressal vorrei accennare che anche quella joint diploma se ne parla pagina 202 non l'ho visto quindi poi c'è un'altra forma un'altra proposta di rete di formazione va bene è una bellissima iniziativa ho bisogno di leggere tutta la guida iniziativa iniziativa tra l'altro è bellissima con delle foto bellissime della consiglia foto molti grafici allora finiamo c'è un'ultima domanda forse prego buongiorno sono Enrico Grillo e sono uno animatore e ho fatto l'anno scorso il percorso con il joint diploma molto arricchente e molto stimolante sono anche un professionista sono ingegnere mi occupo di efficienza energetica e sostenibilità ambientale e trovo che questa guida in qualche modo presenti tutta una serie di esperienze di messe in pratica ispirate all'ecologia integrale la sfida personale è quella ma credo che sia anche di tanti è quella di mettere anche in connessione la parte più spirituale e sociale personale e nella società di un movimento forte in cammino con il mondo professionale con il mondo professionale nelle scelte di attuazione pratica sono anche rappresentante qua nel Lazio per il GBC Italia che fondamentalmente porta avanti dei protocolli energetici ambientali per l'analisi e l'efficientamento degli edifici e credo che l'aspetto sociale inserire l'aspetto sociale dentro i protocolli come approccio alla persona come cura come bellezza come ambiti di relazione sia una sfida importante così come e nello stesso tempo far sì che tutte queste esperienze più spirituali possano diventare esempi concreti poi sono misurabili intesi come come volontà di dare anche un concreto apporto e per cui sono tanto ringrazio di questa guida che è un'occasione molto importante e nello stesso tempo spero che ci possa essere una penetrazione di queste esperienze anche all'interno del mondo professionale negli ordini professionali architetti ingegneri geometri quelli che siano per dare modo anche alle università per dare modo alle nuove generazioni ai professionisti a chi si occupa oggi concretamente anche di temi diciamo legati alla sostenibilità di allargare il respiro di non lasciare l'asettico ma di allargare il respiro a un aspetto più diciamo più spirituale più valoriale ecco grazie direi che possiamo chiudere allora ringraziamo innanzitutto i nostri ospiti Mons. Bressan Mons. Santoro Tomas e il dottor Gattà Katai ringraziamo voi tutti per la presenza il cammino è lungo stiamo percorrendo una strada lunga in rete è più facile ognuno con le sue competenze quindi andiamo avanti così grazie a tutti grazie grazie grazie